La gialla, la gialla, la rosa, l'arancione verde, attenzione sei carri, mi raccomando sei stato un po' trovato anche per quanto riguarda le scarpe, tutti a posto, non si può correre dentro le scarpe da ginnastica, sono postivali, scarpe da montagna, scarpe e dalla vola, diamo fuoco, attenzione, Lucemen, Tolmerumi, Sumron, Borgo Erba, Ceniaco, Cedilis, questa è la finale 2019, aglio dei pini anulari, attenzione, mi raccomando ragazzi, partita la finale, partita la finale, Borgo Erba, Borgo Erba, ma anche Sumron si è tagliati, prendetela, un bel giallo, 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 ha problemi al campo, attenzione, ha problemi al campo, attenzione, su noi, non stai lì perla, stai lì perla, veniamo, 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 se non si scassate, non si scassate. Senta, non si scassate, non si scassate, non si scassate, è per Miro, non si scassate, non si scassate, non si scassate, non si scassate. Buon giorno, per esempio, ha recuperato la reazione, la segnapta, ecco qua, anche il Miolo è arrivato con le Ubi, si è recuperato la rossa. Non mi vanno tre volte. Quindi si è... Dai, aspetta da un po' qui. Signori, signori, siamo pronti per dare la pranzia al verde, signori! Sibili! Sibili! Sibili... Bambini, come市chi? Come市chi ! Ancayati... Sibili! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi ricordo poi di ritornare tutte le pentoline. Vai, vincito in SEDINI. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.